Mi chiamo Anna Rita Soddu, sono in questa veste doppia diciamo di medico e ahimè passata poi come paziente e ho intrapreso questa, insieme ad altre ex compagne di chemio, questa avventura che è stata promossa appunto dalla Lilt su invito diciamo delle nostre oncologhe, che è un po' una rinascita, un ricominciare, un cercare di fare una attività fisica utilizzando le braccia, quindi anche per noi che siamo stati operati al seno, ristimolare anche un pochettino il braccio operato per evitare l'infedema, quindi per stimolare diciamo l'attività fisica, lo stare all'aperto, il rimettersi in gioco dopo la mattia, dopo la chemio I progetti sono di vario tipo, abbiamo il progetto rivolto ai disabili, abbiamo un progetto rivolto all'agonismo, all'alta specializzazione per supportare le famiglie, perché l'agonismo ahimè costa, costa tanto e tra i nostri progetti abbiamo anche quello di cui ho molto piacere di parlarvi, che è Dragonette insieme più forti che è nato un anno fa, no non proprio un anno fa, è nato a luglio del 2023 grazie a un contributo della Federazione Italiana Canoa Kayak e di Sport e Salute e si chiamava Paddle for All Women questo progetto è rivolto alle donne che hanno subito un'operazione di tumore al seno e che quindi sono in fase di recupero perché pagaiare e perché farlo tra l'altro su un'imbarcazione particolare che dà il nome alle fruitrici il Dragon Bot, da lì le Dragon Ladies che poi noi chiamiamo Dragonette perché tramite uno studio di un dottore, il dottor McKenzie si è arrivati a dimostrare che quel tipo di attività quindi proprio il lavoro della pagaiata aiuta a recuperare meglio dopo l'intervento oltre a tutta la parte emotiva ed emozionale che ne deriva dal lavoro di gruppo perché è un'attività che si fa su appunto il Dragon Bot che è una barca dove si pagaia in 10 e quindi c'è tutta la parte di benessere che ne deriva da un mutuo aiuto praticamente è su accesso libero chiunque può, in realtà era nata appunto per donne operate al seno in realtà l'accesso è libero a tutti per le donne operate al seno c'è solo la quota associativa annuale poi per il resto tutte le attività sono gratuite invece chi volesse partecipare come libero ovviamente deve sentire la direzione e per noi nasce appunto come un'attività c'è questo bando che aveva fatto la società per promuovere insomma queste attività e loro hanno vinto appunto questo bando e quindi si può venire senza impegno nel senso sono stati molto grandi secondo me come società perché hanno appunto ordinato il Dragon Bot e quindi abbiamo iniziato pagaiando un pochettino su dei kayak così e poi invece è diventata un po' gruppo hanno fatto anche d'inverno la parte ovviamente non si poteva venire sul lago ma di ginnastica a cui magari non tutte siamo riuscite ad andare in palestra però insomma senza impegno ma cercando di metterci comunque l'impegno ad esserci più possibile non tutte ci si riesce tutte le volte ma facciamo un pochettino gruppo e si cerca di appunto il bello è anche proprio di pagaiare insieme e quindi è proprio unite il fatto di per tenere dritta la barca bisogna metterci ognuno un po' il suo e quindi per tenere un pochettino la direzione riprendere un pochettino insieme una vita normale anche per i nostri istruttori che insomma hanno iniziato questo progetto con qualche riserva non sapendo bene anche quale tipo di sensibilità servisse per supportarle ad oggi sono tutti concordi nel dire che a loro volta hanno ottenuto un beneficio enorme nel portare avanti questo gruppo